I familiari di Gianluca Bianca, il marittimo siracusano di cui non si hanno più notizie dal 12 luglio 2012 quando si verificò l'ammutinamento del motopesca Fatima II, vogliono incontrarle il procuratore capo Sabrina Gambino. Una decisione che scaturisce da una serie di notizie che hanno appreso in quest'ultima settimana relativamente risvolti emersi sull'ammutinamento avvenuto sul peschereccio siracusano e quindi sulla scomparsa del comandante Bianca. Vorrei parlarle da mamma a mamma, dice Antonina Moscuzza, madre di Gianluca, perché da sette anni ormai serbo nel cuore rabbia e costarnazione per non avere avuto risposte certe sulla sorte toccata a mio figlio su quel barcone e perché temo sia molto probabile che non venga fatta nemmeno giustizia piena sul caso del Fatima. E' intenzione della signora Moscuzza consegnare al capo della procuratore Tusea gli ultimi riscontri avuti sul caso dei due egiziani che insieme con il tunisino si impossessarono del motopesca non prima di aver eliminato il comandante e lasciati in mare su una lancia i tre marittimi siracusani che si trovavano a bordo nel momento dell'ammutinamento. Abbiamo avuto modo di parlare al telefono con alcune persone che vivono in Egitto, dice la donna, le quali raccontano che le cose siano andate diversamente da come emerso nel corso del processo e che addirittura dopo essersi impossessate l'imbarcazione i due egiziani avrebbero avuto intenzione di utilizzarle per il traffico di immigrati clandestini, ma il loro intento sarebbe naufragato a causa di una avaria. La Corte Assisi si recusa intanto ha fissato per il 24 settembre l'udienza in cui il PM Tommaso Pagano svolgerà la requisitoria al processo a carico dei tre imputati ritenuti responsabili di omicidio. Aspettiamo il vertetto del Tribunale, conclude Moscuzza, ma siamo delusi dall'ennesima presa in giro ricevuta dal mondo della politica. Ci aspettavamo che, dopo la buca del 12 agosto, qualcuno dello staff e il ministro dell'interno Salvini, come ci avevano promesso, ci desse un riscontro alle richieste di contattare il governo egiziano e sbloccare la situazione. Invece, fino ad oggi, silenzio assoluto.